Il popolo sicuramente si ha votato, valeva il 50% Sono curioso di sapere chi è che non ci ha votato Giralo, giralo E' un percorso sicuramente internazionale Perché tutti amano la musica popolare italiana Speriamo che finalmente vediamo che voi le radio mettete questo pezzo Siamo pronti per la musica etnica mediterranea Io penso che sì, siamo pronti Non faccio una canzone napoletana per l'Italia Ma mi piace essere un napoletano del mondo Sparangia le voci del sud sono grandissime, io le amo Grazie Ciao Nino Un'ultima battuta sul feste Una battuta sul feste Dai dai facciamo Sei amatissimo dal nostro blog, ti hanno mandato un sacco di commenti Anche io amo, ciao bella Dunque Nino Radio Inter Dunque Nino Radio Inter Un'ultima battuta sul feste